Bella ragazzi, bentornati qui sul canale di Grana, stiamo tornati con un nuovo Rotit Vision One Olè Vabbè, normale Eh, sì A parte che... Gente che corre tanto Comunque, oggi abbiamo due possibilità Una possibilità su due Di passare il turno Cioè dobbiamo vincere una partita su due Praticamente Quindi... E questa sarà la prima E non possiamo neanche permetterci un pareggio perché non ci facciamo un cazzo Per fortuna siamo riusciti ad aguantare il pareggio l'altra volta Se no dobbiamo fare un pareggio e una vittoria Eh, eh, eh No, 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 non ci voglio credere Porca troia, oh, che cazzo così per lì, amico Tutti così per lì, amico Tutti così per lì, amico Ma che gioco de merdo, oh Ma che cazzo è Tu madre No, sei fuori dal campo Fid game Ma fa fonte, no Bello, so partito, so partito So partito Vai in diritto E tira No A forti intra No, ma vengono No, perché Perché Che Caputano Eh, ma di vero Eh, che c'entro io Ero l'altro Vai Oh, no, l'ha presa, l'ha presa Ma come cazzo fai Ma vaffanculo, ma dagli una pizza Oh Oh Ma dai, è una sfiga proprio questa però Oh Non è che la mia Non è che la mia O Non è che la mia Che sta succedendo Sempre sua Sempre sua Nel bene o nel male, sempre sua Ci ho provato No, 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 non credibili Non credo Non credo Non credo Non credo Non credo palla mamma mia sti rimpalli porco 2 via lui moltaccia mamma mia raga scusate ma io ho ancora la voce così perchè dietro? perchè dietro? per quale assurdo motivo per portaccio tua no come spieghi perchè l'ha passata dietro ma c'è sta fammelina questo ma lo sai che non è il novantesimo e il quarentacinquesimo porca puttana ha fischiato non sopporta un tiro in porta ha fatto eh regolamone ma come ha fatto quel golo? mi spieghi perchè non ci riesci mai a fare sta cosa perchè quando lo faccio io mi coprono E' FATTO E' FATTO mamma mia mamma mia al prossimo io lo faccio non vedo niente riesci d'arte l'editorio e' FATTO mamma mia mamma mia FATTO 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 e così non dico niente no no comina torta oddio provega no eh vabbè eh vabbè mamma mia bello subito magico esci esci da sto bar no ma le pia sempre il portiere quando dirà così ma come esce si ma come cazzo esce il portiere qualcun 2 tu diri de merda bello 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 fallo no 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 sono quattro pali oggi eh quattro quattro che fuori gioco ma da che ma vaffanculo va ma quattro pali che per me cioè rega avrete stati avrete incredibile pare volerete che non dobbiamo passare turno oh no però perchè porco 2 carico a bestia e santo dio la da quello più vicino va bene comunque va bene comunque no perchè 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 ha fatto sta lungo di merda perchè no per me io azzardo che hai scrittato perchè è una cosa incredibile cioè non è possibile quattro pali ma quando hai preso quattro pali una partita di fifa oh ma porco 2 ma perchè non fischia i falli sto mongoloide cioè ma inculato in pratica c'ho un cazzo per pareggio non ci fanno un cazzo vabbè rega è qualcosa di incredibile cioè non ci posso credere guarda non ci voglio ha fatto tre tiri in porta tre tiri di merda non ha fatto lui un'azione bella noi abbiamo preso quattro pali cioè come è possibile qua guarda è qualcosa di incredibile qualcosa di veramente io voglio farvi delle statistiche rega io non so più che devo fare noi non sappiamo più che devo fare non si meritano proprio questo 3 a 2 ma poi avete visto la partita insomma le occasioni che sono state nostre e le sue la differenza niente noi dobbiamo farsi tre punti ultima partita e spera che vincemo domani voglio tutti quanti davanti al computer avete sta cazzo di partita perché se non vinciamo mamma mia mamma mia comunque sempre grandi e forza vecchi trapani dai ciao 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 ciao